Palazzo contro Lucarelli, Palazzo in area di rigore, Palazzo! La prima volta di Palazzo con il Genoa, 1-0 al 14esimo. Milanetto sembra volesse provare, poi la palla resta lì, Palladino, Mirante, Mirante! Mirante ha fatto un miracolo qui, è stato fermo. Allontana Juric, c'è un contropiede adesso per il Genoa, sono in tre contro due, con Sculli che di testa serve Milanetto. Parte anche Palladino dalla parte opposta, c'è Palazzo, Palladino ancora, Palladino in area di rigore, Palladino fa tutto da solo, Mirante! Ancora Palladino la rimette lì, Palazzo il controllo di petto, cerca la sponda in mezzo per Sculli, allontano Antonelli! Attenzione al Parma, con Galloppa dentro per Biabiani, posizione regolare, Biabiani solo davanti a Scarpi, Biabiani! Il pareggio del Parma! Biabiani, poi Morrone, lanza fame, mette il pallone in mezzo per Zemail, attenzione Antonelli! Antonelli! Cosa ha sbagliato Antonelli? Palladino, Morrone si lamenta, Palladino, c'è Milanetto vicino a lui, Palladino prova la conclusione, Mirante non la prende! Panucci! Palla dentro, lanza fame, ancora, lanza fame, in area di rigore, lanza fame, Biabiani, Biabiani! Il Parma vola! Con l'esterno, flocca nel triangolo, Palladino, Palladino!